l'ultima live che abbiamo fatto in Brasile è andata abbastanza bene in questo momento siamo arrivati su 2000 visualizzazioni i commenti sono anche positive persone che hanno apprezzato e quindi chiedono di fare altre live e ne abbiamo programmato una verso fine agosto quindi vi anticipo un po l'argomento tenuto conto che in gran parte sono cose che abbiamo esplorato in tutte le direzioni ma in effetti non abbiamo presentato questo questo disegno di Nostradamus che sarà un po l'ospite d'onore qual è la questione la questione sarà i sigilli dell'Apocalisse la siccità e Nostradamus perché perché in Brasile nel canale di Roger seguono molto le proiezioni di Gilbrosar che diciamo si lancia anche nell'interpretazione dell'Apocalisse e quindi la questione è a quale sigillo siamo quindi si sono sono rimasti stupiti che noi abbiamo dichiarato che siamo in attesa del primo sigillo invece Gilbrosar si proietta verso il secondo e il terzo teniamo conto che i fenomeni cosmici potrebbero apparire intorno al quinto sigillo e quindi noi sosteniamo la tesi che il primo sigillo il cavallo bianco sia di natura religiosa quindi la parola di Dio che si diffonde il Vangelo viene praticato in giro per il mondo quindi c'è una prima fase in cui diciamo tutte le come dice il Vangelo tutte le piante che il padre celeste non ha piantato verranno sradicate quindi la provvidenza provvede a fare pulizia della zizzania di tutta questa confusione di sette di non sette Gesù di qua e Gesù di là potrebbe configurarsi la situazione che dice Gesù dice non vi preoccupate alla fine dei tempi chi non è con me è contro di me quindi non ci sarà più questa possibilità di di tanta scelta o con Gesù o contro Gesù e perché perché noi riteniamo che questa scoperta della teoria degli antichi astronauti farà un po' di pulizia perché praticamente tutte le religioni sono basate sia la cattolica protestante sono basate su sul credere che Gesù è Cristo quindi Cristo è il messia che gli ebrei stavano aspettando e quindi venendo a cadere questa paradigma tutte le religioni figlie di Paolo di Tarso perché Paolo di Tarso che ha generato questa categoria quindi si è ritirato nel deserto ha meditato per due anni e ha cercato di sposare il dio del vecchio testamento di cui lui era un forte un zelante sostenitore in quanto era un fariseo studioso di della Bibbia e quant'altro ha cercato di sposare di trarre un tratto d'unione tra il vecchio e il nuovo testamento e in questa sua opera ha trovato terreno facile in Pietro anche Pietro era un tradizionalista quindi questa coppietta Pietro e Paolo hanno creato quello che la religione cristiana che noi conosciamo e noi pensiamo che questa religione cristiana in quanto tale vorrà accadere perché le evidenze sono talmente tante che il dio dell'antico testamento non ci azzecca nulla che alla fine prevarranno quindi ci saranno persone che hanno conosciuto profondamente questo Gesù delle osterie informale antimoralista che lo accetteranno e lo sosterranno e invece chi invece si era immaginato tutt'altro che aveva capito il contrario potrebbe diventare un ebreo quindi questo è quello che noi pensiamo e quindi secondo noi questo disegno del nostro Adamus racconta questo quindi il creatore il padre celeste chiamiamolo come vogliamo fa vedere all'umanità qual è la vera parola di Dio quindi la vera i veri strumenti per questa evoluzione dell'uomo di questa rinascita in spirito e poi che sia questo il primo sigillo lo capiamo da due cose nella nostra chiaramente nella nostra interpretazione di questi sigilli quindi il cerchio vuoto in alto per noi si intende che non ci sono ancora interferenze di Nibiru con la luna quindi in questa fase in cui noi potremmo essere vicino se non dentro fino al collo teniamo conto che la chiesa è immersa in subugli giganteschi e quindi in questa fase non ci sono fenomeni cosmici quali disturbi dell'orbita della luna mancati eclissi invece noi in basso leggiamo la posizione dove si trova Nibiru teniamo conto che per questa a causa di questa questione della parallasse quindi della rotazione della terra intorno al sole anche se il pianeta Nibiru è fermo in una costellazione noi lo vediamo muoversi e quindi noi pensiamo che sia in Orione nel toro quindi questi due segni in basso sono il gemelli e l'ariete quindi sono due segni che stanno intorno a Orione quindi diciamo durante l'arco dell'anno quindi con la rotazione del sole la posizione apparente di Nibiru sposta tra i gemelli e l'ariete quindi al centro se voi fate una media il punto medio è proprio Orione tra i gemelli e l'ariete quindi significa che in questa fase in cui la vera dottrina della chiesa verrà affermata dalla provvidenza Nibiru è bello lì fermo intorno a Betelgeus e la luna non dà segni di disturbo da parte di Nibiru Grazie a tutti